Ecco siamo arrivati a questo punto a dover manifestare in piazza perché ci sono 29 lavoratori, 29 famiglie veramente in ginocchio ormai, siamo in solidarietà dal luglio del 2014 quindi abbiamo già fatto dei grandi sacrifici ma questo evidentemente non è bastato a fine settembre la proprietà è passata da Amaglio Cerroni a Fabrizio Coscione ci avevano garantito comunque che saremmo andati incontro a una ripresa dell'azienda in realtà da quel giorno non abbiamo avuto mai nessuna risposta al tavolo sindacale dall'attuale proprietà né sugli stipendi né sulla richiesta che abbiamo fatto di un piano industriale perfino di eventuali tagli, questo sembra paradossale ma noi siamo arrivati anche a offrire questo come è normale nella dialettica sindacale, a fronte di questo non abbiamo avuto nessuna risposta continuiamo ad essere molto preoccupati e a vivere questa situazione anche per noi ripeto per 29 famiglie è veramente ormai drammatica